Allarme scelesciano recrudescenza criminale a scoglitti, furti in pieno giorno, maldiventi non curanti della presenza dei proprietari in casa. La situazione nella frazione riverasca preoccupa la cittadinanza. A lanciare l'allarme il Partito Democratico preoccupato per l'attuale situazione della pubblica sicurezza, specie nelle borgate periferiche che al momento sembrano essere al centro dell'attenzione di certa criminalità, definita cinica e verosimilmente violenta. I consiglieri Franco Caruso e Marco Dezio, tramite il sindaco Nicosia e l'assessore Avola, hanno chiesto l'intervento del prefetto di Ragusa Giovanna Cagliostro. L'azione messa in campo dai consiglieri della frazione ha come obiettivo quello di dare avvio ad un tavolo di dialogo con i rappresentanti delle forze dell'ordine al fine di strutturare un serio piano di contenimento e risoluzione del problema che sta allarmando la popolazione di scoglitti. Non è la prima volta che la frazione in inverno sia piazza privilegiata di atti delinquenziali che sfociano in azioni criminali vere e proprie. Lo scorso anno ripetuti atti vandalici hanno interessato ad esempio l'istituto comprensivo Sciascia e l'area del campetto adiacente, diverse le panchine del lungomare di Valte e le isole ecologiche totalmente distrutte. Diversi gli appelli lanciati dalla politica in diverse occasioni. Anche per questo il PD si dice disponibile a collaborare in prima persona e a partecipare attivamente al tavolo tecnico per porre rimedio alla questione criminalità.